Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video su Urneterra, oggi a grandissima richiesta andremo a stipulare una bibbia di quello che bisogna fare in spedizioni per riuscire ad arrivare alle nostre tanto agognate 7 vittorie. Allora prima di partire con i consigli voglio fare una premessa, è vero che è molto importante saper draftare in spedizioni e infatti andremo ad analizzare in maniera molto approfondita questo ambito, però ragazzi ricordiamoci che poi le partite vanno giocate. Quindi noto che è molto facile, anche per me, magari arrivare a dare la colpa al mazzo, al mazzo dell'avversario che è molto più forte diventando un po' miopi su quelli che sono gli errori che noi facciamo mentre giochiamo. Mentre in ranked magari è più difficile perché il mazzo l'abbiamo costruito noi e di conseguenza non possiamo dare più di tanto le colpe a qualcun altro e in spedizioni magari diamo più la colpa alla sfortuna per non aver draftato bene perché l'altro ha draftato benissimo ecco cerchiamo sempre di rimanere lucidi nell'analizzare il nostro gameplay al netto di quello che possa essere il mazzo nostro e quello dell'avversario. Detto questo partiamo. Iniziamo parlando di come si comporta il programma nei nostri confronti durante il draft perché è una cosa molto importante. Allora noi tendenzialmente dobbiamo cercare di andare a draftare le carte più forti in relazione al mazzo che stiamo facendo ma non solo perché dobbiamo stare anche attenti ovviamente alla curva di mana che spesso magari viene un po' ignorata in un gioco in cui c'è anche il mana per gli incantesimi e quindi è possibile citare in qualche modo sulla curva però in realtà è molto importante anche perché in generale nelle spedizioni non si può non avere early game i mazzi aggressivi sono tanti e se noi siamo scoperti anche se abbiamo l'idea di fare un mazzo più control se noi non abbiamo troppa 1, troppa 2, troppa 3 andiamo talmente sotto nelle prime fasi di gioco da poi non riuscire a recuperare a dovere quindi stiamo molto attenti alla curva di mana ma c'è un'altra piccola interazione che ci può essere molto utile se voi notate sopra ogni coppia o tris di carte che ci vengono presentate c'è un nome in qualche modo il gioco raggruppa le carte in base alle sinergie che secondo lui sono migliori quindi ogni eroe avrà delle carte che gli vengono date più spesso e noi dobbiamo stare attenti a queste cose perché c'è anche la questione che se noi per due o tre volte quando ci viene data una scelta di una tipologia di carte ad esempio stiamo giocando con Fiora ci vengono date delle possibilità di prendere carte con Barrier ma noi non le prendiamo perché ci sono carte più forti in altri pick c'è il rischio poi che il gioco comincia a non dartele più perché capisce che non sono carte che ti interessano o perché comunque sia nella creazione del tuo mazzo stai andando più verso un'altra direzione quindi quando siete indecisi su un pick da fare tenete anche in considerazione questo se in futuro voi voleste ripiccare una carta o una tipologia di carte che c'è in quel momento magari scegliete quella coppia piuttosto che un'altra fatta questa premessa partiamo con delle statistiche che reputo molto importanti da analizzare ma vanno sapute leggere perché ci sono alcuni inganni all'interno partiamo prima schermata prima schermata probabilmente la più importante ci sono i win rate per coppie di regioni noi quando andiamo a draftare tendenzialmente faremo quasi sempre un mazzo con due regioni magari a volte mettiamo anche una spruzzata di una terza regione ma con molte poche carte quindi ci manteniamo su questa idea delle coppie e andiamo a vedere quali sono quelle migliori secondo le statistiche al primo posto troviamo Demacia e Noxus un buon numero di partite giocate con il 60% di win rate che è un win rate estremamente alto al secondo posto troviamo Ionia Noxus quindi già vediamo che Noxus sta sia al primo che al secondo posto e 1600 game anche di più quindi con il 59% di win rate anche questo molto alto dopodichè abbiamo tre punti di differenza nel win rate perché si arriva a 56 spicci Demacia e Ionia allora già da questo ci siamo fatti un'idea perché nelle prime tre posizioni ci sono due volte Demacia due volte Noxus due volte Ionia questo non può essere un caso quindi pur prendendo con le dovute precauzioni le statistiche capiamo subito che le tre regioni più forti in spedizione sono Demacia, Noxus e Ionia andiamo avanti quarto e quinto posto troviamo ancora Demacia, Freylord con un win rate praticamente identico a Demacia e Ionia e più staccato al 53,5% Freylord isole ombra un'altra cosa che ci salta subito all'occhio Piltover Zaun non c'è mai Shadow Iseless soltanto in fondo Freylord c'è sia al quarto che al quinto posto ma soprattutto c'è tre volte Demacia ok perché Demacia e Noxus sono così forti in spedizione? per quello che dicevamo prima Demacia e Noxus hanno degli ottimi seguaci per l'early game è facile fare un mazzo molto solido, veloce che può mettere in difficoltà i nostri avversari con Demacia e Noxus mentre è più difficile giocare magari Freylord, Shadow Iseless o addirittura Piltover perché hanno bisogno di più sinergie e interazioni spesso hanno dei minion che magari non valgono il costo del mana che usiamo hanno sinergie che possono diventare molto interessanti però insomma un pezzo di Noxus che è un 5-2 non lo troviamo in queste fazioni oppure anche in Demacia abbiamo 5 mana un 5-5 con Tuff 5-5 con Tuff è più forte di quasi tutti i drop a 5 presi singolarmente un altro drop molto forte a 5 è quello di Noxus 6-5 con Temibile e infatti queste due fazioni sembrano avere una marcia in più delle altre allora adesso andiamo a vedere regioni per regioni i campioni con i loro win rate e le carte più forti di ogni regione almeno secondo il win rate allora partiamo da Ionia partiamo da Ionia abbiamo Yasuo, Shen, Zed e Karma allora Yasuo e Shen hanno un win rate molto più elevato di Zed e Karma però vediamo anche un'altra cosa che hanno un play rate quindi una percentuale di giocata molto più basso che vuol dire questo? vuol dire che le carte poco giocate con alto win rate spesso sono ingannevoli perché significa che noi è vero che quando le giochiamo vinciamo spesso ma è altrettanto vero che le giochiamo raramente quindi potrebbero essere magari carte che costano tanto che in molte altre situazioni non riusciamo mai a giocare e magari perdiamo proprio perché abbiamo una carta morta in mano e non la possiamo giocare quindi state attenti alle carte con win rate alto ma play rate basso soprattutto se costano tanto in questo caso Yasuo e Shen in realtà costano 4 quindi io la reputo abbastanza verosimile secondo me è più una questione che vengono piccate meno delle altre perché Zed e Karma in Constructed sono molto forti e quindi la gente istintivamente va a scegliere anche loro Zed in particolare vediamo che ha più del doppio del play rate dei primi due quindi cosa consiglio qui? secondo me Yasuo è il champion più forte di Ionia anche perché dobbiamo sempre considerare le carte che vengono associate ai personaggi le carte che fanno uno stun oppure un recall per Yasuo sono carte molto forti a volte ci vengono date anche carte di Noxus ad esempio che sinergizzano molto bene con Yasuo quindi io lo consiglio molto Yasuo Shen più se magari abbiamo personaggi come Fiora e quindi ci aumenta il drop rate di carte con barrier o comunque sia carte difensive che ci aiutano nel finalizzare la combo di Fiora Zed secondo me è un buon pick però evidentemente le carte che ci danno insieme a Zed spesso non sono un granché perché poi si arriva a un win rate non eccezionale quindi occhio passiamo a Noxus Noxus a Draven Vladimir, Katarina e Darius vediamo subito una cosa Darius è il primo personaggio che andiamo a guardare con un win rate inferiore al 50% anche di parecchio 44,54 io ci ho pensato un po' a questa cosa e secondo me la vera giustificazione avendo il play rate più alto di tutti è che lo scelgono tantissimi giocatori molti poco esperti questo unito al fatto che probabilmente le carte che ci danno insieme a Darius non sono il massimo genera un win rate così basso quindi state attenti lo potete prendere Darius io ho fatto due volte 7 win con Darius dovete poi però stare attenti a scegliere bene le carte insieme a Darius soprattutto anche dell'altro mazzo perché Darius ha bisogno di un mazzo molto aggressivo quindi se poi fate un mazzo con Darius e Freylord e che prendete le carte a rilento ecco Darius diventa molto molto meno forte ok quindi occhio alla combinazione che fate con Darius e poi abbiamo un Vladimir che in realtà con un buon win rate ma il play rate è talmente basso che io non lo prendo in considerazione secondo me è semplicemente che i pochi che riescono a giocare in una situazione favorevole hanno un buon win rate ma insomma tendenzialmente così è così e poi abbiamo invece Katarina e Draven Draven in particolare che sembrano avere dei win rate decenti quantomeno Draven quasi buono io reputo comunque Draven superiore a Katarina perché Katarina ha bisogno di molto mana per essere sfruttata anche se poi in late diventa molto forte Draven però evidentemente viene anche associata a ottime carte e di conseguenza sì probabilmente Draven è effettivamente il champion migliore da scegliere di Noxius qui troviamo le carte delle due regioni appena discusse sono le 5 carte con il win rate più alto al netto del play rate qua vediamo subito il primo inganno la prima carta di Ionia ha un play rate talmente basso che il suo win rate determinava soltanto dal fatto che le poche volte che noi riusciamo a giocarla con successo vinciamo la partita quindi non la prenderei neanche in considerazione il mentor la shadow assassin invece sono carte fortissime fortissimi da piccare sempre e appunto da cercare anche di farcele arrivare quindi se le trovate piccatele così magari poi ve le ripropone anche in un secondo momento le due carte più forti sicuramente della regione e i usari che se vogliamo un po' a sorpresa in questa classifica ma in realtà il fatto di avere elusivo e il fatto di piccarlo insieme a shadow assassin ti comincia a dare tante carte elusive vediamo anche che abbiamo tre carte con elusivo in questi primi cinque e infatti la metodologia elusivi premia molto premia molto in ispedizioni quindi se riuscite a fare un mazzo con molti elusivi fatelo perché è un ottimo mazzo per le spedizioni e poi abbiamo denai che ovviamente è sempre forte secondo me meno rispetto al al constructed ma rimane comunque sia un'ottima carta che ci può salvare la vita in situazioni pericolosissime passiamo a noxius ecco l'arena battlecaster secondo me vale lo stesso di quello detto prima ha un play rate bassissimo perché tendenzialmente tu se non hai un buon motivo per giocarla non la giochi quando la giochi vinci spesso però effettivamente ci sono anche tanti momenti in cui giocare a 2 mana un 2-1 è una giocata debole ok quindi state attenti non vi fate troppo ingannare da questa carta e poi andiamo invece a carte che secondo me sono molto forti il trifarian hopful è una delle carte aggressive migliori di noxius insieme secondo me alla legend drummer perché dare attacco rapido soprattutto proprio all'hopful trifarian è molto forte perché è quasi impossibile che qualcuno riesca a bloccarti rifacendo di danno indietro quando sei un 5-2 quindi queste due carte mi piacciono molto ecco in noxius dovete stare attenti a non prendere troppi drop a 2 ci sono tantissimi drop a 2 c'è il rischio che voi facciate un mazzo senza accorgermene con una curva brutta che poi potrebbe pagare quindi state attenti might è molto forte perché può trovarci dei leadal in situazioni in cui l'avversario non se lo aspetta inoltre appunto visto che queste statistiche 5-2 ad esempio 5-2 diventa un 8-2 con sopraffare 8-2 con sopraffare passano veramente tanti danni oltre al trade vantaggioso e poi il minotauro che in realtà è la mia carta preferita di noxius perché appunto è molto forte anche quando picchiamo yasuo con ionia e quindi secondo me ionia noxius con il minotauro yasuo e altre carte ad esempio c'è anche lo spider che stanna a me piace tantissimo ho fatto più volte 7 win con questa cosa io ogni volta che trovo yasuo lo picco perché mi piace moltissimo questo tipo di mazzo quindi secondo me paradossalmente la meno forte di queste 5 carte è proprio la prima proseguiamo tocca a Piltover e Isole Ombra che sono le due fazioni che abbiamo visto fare un po' più fatica per il Piltover abbiamo Everdinger Ezreal Jinx e Timo vediamo subito che Timo è un altro di quei personaggi che non arriva al 50% di win rate e questo perché perché Timo in realtà non è un brutto pick ho fatto 7 win con Timo due o tre volte ma mi sono reso conto che le carte che ti danno dopo aver preso Timo sono pessime veramente pessime se non troviamo le carte che ci danno gli scoppiettini tutte le altre sono carte che a parte il il bolt di Ezreal che ogni tanto ci danno ok ma sono carte che proprio non vale la pena andare a draftare se noi non le draftiamo poi il gioco si scorda un po' che noi abbiamo Timo ci dà pochi scoppiettini e ci ritroviamo in una situazione in cui Timo è un 1-1 elusivo che fa poco di più invece Everdinger è il primo di questa lista e Ezreal è il secondo Everdinger allo stesso modo giova del fatto che non è così semplice ucciderlo come potrebbe essere in realtà in Constructed e di conseguenza sfruttando anche il fatto che comunque sia le carte che ci vengono date di Everdinger sono molto buone con lui oltre che probabilmente tra le migliori del del pacchetto Piltover e infatti ha un win rate del 60% quando viene giocato il vero problema è che il mazzo di Everdinger rischia di essere molto pesante e se noi non troviamo Everdinger o lo giochiamo quando è troppo tardi spesso lo andiamo a perdere e lui non risente di questo loss rate perché in campo magari non c'è mai arrivato ok mentre invece un team ad esempio un team le gioca tutte tu al primo turno il team lo metti sempre andiamo a vedere sotto Isole Ombra che è una delle cose più interessanti allora l'Isole Ombra in maniera un po' se vogliamo singolare ha come personaggio con win rate più alto Kalista che è in realtà il personaggio più scarso di Isole Ombra perché Egarim Elise e anche Trash sono sicuramente migliori come personaggi però perché Kalista ha un ottimo win rate perché Kalista con le carte è associata al pacchetto sacrificio e quindi se noi picchiamo Kalista cominceranno ad arrivarci le carte più forti di Isole Ombra che con gli altri invece non ci danno adesso ne andiamo a vedere subito perché questa è una cosa molto interessante guardiamo un attimo quello delle Isole Ombra le Isole Ombra hanno con il win rate più alto il il coccodrillo è fortissima la spell che uccide il pezzo e peschi 2 il corset keeper e la spear oltre ovviamente al grasp che è forte sempre perché ci cura uccide gli elusivi molto forti tra l'altro abbiamo visto che molti personaggi forti hanno 3 in vita Everdinger Fiora ci sono molti personaggi forti con 3 in vita anche Driven e noi con questo lo uccidiamo ma tutto il resto è tutto il pacchetto Kalista fondamentalmente perché la spear il corset keeper e il beyond e anche il coccodrillo ci vengono dati principalmente se scegliamo Kalista quindi lo scegli Kalista non è perché è forte Kalista ma perché le carte che ci danno sono molto forti e fate molta attenzione a questa cosa perché cambia tantissimo le carte che ci vengono date dal momento che prendiamo il personaggio in poi quindi occhio all'isola e ombra invece per il piltover abbiamo come prima in classifica ovviamente con un play rate bassissimo perché costa 8 ma molto forte se riusciamo a giocarla il progress day che tra l'altro è la carta di Emmerdinger quindi questo ci fa capire anche perché Emmerdinger è così alto inoltre abbiamo praticamente tutte spell ok a parte il clamp of wooms perché paradossalmente il furetto qui ha un win rate molto più alto di timo perché questo pezzo tu lo giochi quasi solo se hai timo nel mazzo però tu potresti avere timo senza di questo quindi se tu hai timo e questi il win rate è alto se tu hai timo senza di questi il win rate è basso questo senza timo non ce l'hai quasi mai quindi lui si cucca un win rate altissimo timo poverino sotto il 50% il termogenic beam è molto forte perché rimuove quasi qualsiasi pezzo la nostra scelta inoltre con Emmerdinger può generare delle torrette di costo molto elevato mystic shot come dicevamo prima è una carta molto forte sempre ottimo infatti ha il play rate più alto di tutta Piltover e poi c'è Resin spell force che ha un play rate bassissimo però effettivamente quando lo giochiamo abbiamo un ottimo win rate è una spell che costa anche poco quindi secondo me questa spell è un po' la perla o arriviamo a Demacia che forse è la regione più forte qui in spedizioni abbiamo Fiora Garen Lux e Lucian sono quattro personaggi tutti abbastanza forti spedizioni e in particolare i primi due per motivi diversi Fiora perché è un personaggio in generale molto forte molto pericoloso in spedizioni magari hai anche meno modi per contestarlo e quindi è facile che magari riesca a a completare la sua quest ma comunque sia un 3-3 con Challenger di per sé è un ottimo pezzo Garen invece è molto forte perché secondo me uno dei mazzi più solidi e competitivi in spedizioni è con Demacia e gli Elite lui è Elite e vi capiteranno tantissimi Elite se scegliete Garen che secondo me è un ottimo modo per costruire un mazzo anche facile da giocare Garen secondo me è veramente un ottimo pick in spedizioni soprattutto per chi non è super esperto e infatti ha il play rate più alto di tutti quanti poi andiamo a vedere Freylord invece Freylord ha un uomo solo al comando Braum ha il 59% di win rate e questo è un win rate reale perché è un pezzo che costa 3 e noi quando lo giochiamo quando giochiamo a un pezzo che costa 3 e abbiamo il 59% di win rate significa che il pezzo è fortissimo in spedizioni e dopodiché abbiamo gli altri 3 Ash che ha il win rate peggiore di tutta quanta il gioco quindi ve lo sconsiglio caldamente Ash anche perché ha neanche un play rate così basso proprio il fatto che fa schifo e secondo me Trindamer è uno dei personaggi da soli più forti che puoi giocare in spedizioni è più un problema delle carte che ti hanno dato insieme a lui e andiamola a vedere queste carte allora andiamola a vedere Demacia ha come carta più forte come win rate redoubled valor è ovvio è ovvio il motivo perché tu la giochi soltanto quando puoi raddoppiare forza e costituzione di un pezzo molto forte e da lì a poco a quel punto vinci il problema è che se non ci riesci tu non lo fai su un 2-2 quindi non la giochi per niente perdi senza averla giocata quindi questa carta si prende soltanto il win rate di quando viene giocata che è molto alto ma bait inganno occhio Warchief invece è fortissimo Warchief è uno dei pezzi più forti da piccare in ispezioni abbiamo un 61 quasi per cento in win rate con un play rate altissimo questa carta è fortissima fortissima come è fortissimo anche il Laurent Blade Kiever anche perché il Laurent Blade Kiever viene spesso messo nei pacchetti fiora quindi è ancora più forte il suo potenziamento quando va su fiora e gli crea questo win rate altissimo allo stesso modo lo Swift Wing Lancer con anche lui play rate maggiore del 20% che è rarissimo e con un win rate maggiore del 60% questa carta è veramente fortissima sta bene ovunque non è un elite ma ti dà un elite in mano quindi sta bene con Garen sta bene con Fiora è una carta sempre forte e questo in realtà vi fa capire perché Demacia è così alta nelle accoppiate perché anche se tu non prendi un personaggio fortissimo di Demacia tutte le carte che ti arrivano sono ottime sono ottime giocabili quasi sempre e da un win rate spaventoso Demacia se potete piccatelo sempre l'ultima è Judgment anche questa win rate altissimo play rate basso perché? perché se Judgment viene giocata con successo probabilmente hai vinto la partita passiamo a Freylord Freylord ha una cosa particolare allora abbiamo un minion a 3 con un play rate molto basso e un win rate alto che è strano questa cosa perché avviene? perché effettivamente noi vogliamo sfruttarlo al massimo questo 3-1 e quindi lo giochiamo soltanto quando il danno che va a fare uccide un minion l'uccisione di un minion mettendo pezzo a 3 ci dà uno swinging board elevatissimo e di conseguenza andiamo ad avere un win rate molto alto comunque si allora è una buona carta quindi se vi capita prendetela poi entry hit ha un altissimo win rate altissimo win rate molto forte in spedizioni ovviamente andarsi a cercare l'eroe è molto forte perché sono i pezzi più grossi che avete nel mazzo e quindi giocarli poi vi assicura un win rate elevato dopo aver giocato questa giocherete anche l'eroe e di conseguenza il vostro win rate sale l'ansia anti-eddy è un'altra carta che ha un ottimo win rate vale un po' la stessa cosa dell'alpha white claw sono due carte che vi escono probabilmente se prendete trindamer quando le giocate hanno un win rate molto alto perché sono molto forti in board poi l'ansia anti-eddy tu se lo giochi vuol dire che lo stai giocando a poco perché te lo sei tenuto in mano se tu non lo giochi perché magari l'hai pescato e costa ancora troppo e perdi non gli conta il win rate al contrario di conseguenza sono due carte molto forti quando non lo giocate però ovviamente costano tanto sicuramente l'alpha white claw costa sempre tanto l'ansia anti-eddy può costare poco ma costa poco solo se avete avuto la fortuna di averlo in mano in Irly e poi c'è avalanse avalanse secondo me è una carta molto forte sia in constructed sia in in spedizioni e ti può salvare dalle partenze aggressive soprattutto in oxus perché in realtà demasia potrebbe resistere con i suoi pezzi a avalanse però insomma è la carta che speri di avere sempre perché se non hai un early game fortissimo hai bisogno di questo per rimanere vivo altrimenti probabilmente in late non ci arrivi mai bene ragazzi abbiamo analizzato tutte quante le regioni andiamo a rivedere a questo punto la prima schermata che abbiamo commentato e capiamo il motivo per cui stanno qui adesso demasia noxius è un ottimo tempo agro deck iona noxius è il mazzo di jasu fondamentalmente e demasia ionia invece è probabilmente un mazzo con molti elusivi oppure quello fiora che sono entrambi i mazzi molto forti quindi questi tre accoppiate sono così forti perché hanno anche delle ottime sinergie tra loro se riuscite a fare uno di questi tre mazzi fatelo sempre perché secondo me è il modo migliore per portarsi a casa sette win in spedizioni io spero di non essere stato troppo prolisso ovviamente c'è tante cose da dire poi in futuro magari analizzeremo più approfonditamente una singola regione vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del video vi invito ad iscrivervi a tutti i miei canali social e su twitch che streamiamo tutti i giorni dalle 4 alle 8 io vi lascio alle vostre spedizioni buon gioco a tutti e che le sette win siano con voi a tutti i miei a tutti i miei